Ancora maltempo, ancora disagi in provincia di Lecco. Nella notte appena trascorsa, a pioggia e vento, si sono abbattuti con furia nell'area dell'Abrianza, Merattese. Problemi sin dalle prime ore dell'alba per allagamenti, alberi abbattuti e disagi correlati. Decine e decine le richieste di aiuto dai cittadini e i pompieri, le delegazioni di protezione civile, sono state impegnate nei comuni di Merattio, Snagol, Giate e Brivio, per aiutare i cittadini e le forze dell'ordine a mettere in sicurezza gli alberi pericolanti o peggio caduti e sgomberare le abitazioni in vase dall'acqua. Esondato il torrente Bevera che attraversa l'Abrianza, Lecchese, allagata anche la strada fra Eruno e Calozio Corte. Il problema più grave è stato quello che ha compromesso per buona parte della mattinata la circolazione ferroviaria sulla tratta Milano-Carnate-Lecco. Alcuni treni sono stati soppressi a causa dell'allagamento della galleria fra Olgiate e Merate. Per ovviare i disagi, le ferrovie hanno istituito un servizio di bus navetta fra le stazioni di Merate e Calozio. I tecnici di RFI hanno lavorato per tutta la mattinata e complice al cessare delle precipitazioni. La tratta ferroviaria è stata riaperta a mezzogiorno. Stando alle previsioni, il maltempo è destinato a dare una tregua sulle Chese. Negli scorsi giorni ci sono stati danni nell'area dell'Oggionese, quali si sommano i problemi delle scorse settimane nell'Alto Lago e in Vassassina. I disagi di questa settimana, seppur gravi, non sono però certo paragonabili a quanto accaduto a giugno ed agosto. Le richieste di risarcimento di danni formulate in provincia di Lecco al governo da enti e aziende colpite ammontano infatti a 7 milioni di euro.